E' Napoli, la provincia italiana dove si sequestrano i maggiori quantitativi di merce contraffatta. Nel 2016, secondo una ricerca Censis, sono stati confiscati più di 6 milioni di articoli falsi, pari al 24% del territorio nazionale. Il fenomeno è al centro della seconda settimana nazionale anticontraffazione, organizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso della quale si analizzano i dati e si promuovono iniziative di studio e sensibilizzazione. Questa mattina se ne è discusso in prefettura con il direttore generale dell'ufficio ministeriale Brevetti e Marchi, Loredana Gulino, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ed il prefetto Carmela Pagano. Non è affatto vero che a Napoli il senso civico sia inferiore rispetto ad altre città. Ma non è solo l'opinione di un napoletano e del sindaco. Basta vedere che Napoli, da quando noi l'amministriamo, ha il maggior numero di luoghi affidati e adottati esclusivamente per senso civico dei napoletani, oltre 400. Il livello di partecipazione popolare, di antimafia sociale dei fatti, di schieramento delle forze in campo. Detto questo, a Napoli c'è contraffazione anche tanta, detto questo a Napoli c'è criminalità e ce n'è anche tanta. Quindi c'è un tema di repressione, ma come nelle grandi città del mondo, né più e né meno, e c'è anche un tema di prevenzione. Noi, per esempio, come Comune di Napoli, migliaia di persone in questi anni le abbiamo fatte uscire da un circuito di illegittimità, abusività, semplicemente perché facevano un'attività creativa di artigianato partenopeo, anche di autoimprenditorialità, certe volte anche suggestiva, ma non avevano autorizzazioni che noi abbiamo dato. Ovviamente nel dare autorizzazioni noi chiediamo in cambio che ci sia il rispetto del decoro, che ci sia un rispetto di alcune regole, è la riemersione dal nero in attività legale. Altre cose sono le attività criminali che non possono essere tollerate e mai sottovalutare che dietro ad alcune attività di abusismo e contraffazione c'è la criminalità organizzata. Grazie alle forze di polizia e soprattutto alla polizia municipale, diverse aree della città non sono più in base di attività abusive. Oggi invece mi sento di dire che bisogna fare molto di più su quello che è il cosiddetto traffico anche di rifiuti che viene fatto in alcune ore della giornata nella nostra città e in cui ho chiesto un impegno più forte di tutte le articolazioni, in particolare delle forze di polizia, ma non solo, e anche lì con l'affidamento sempre di più delle aree alle persone che vivono quei territori, anche in cambio di esoneri totali e parziali da tasse comunali. Grazie a tutti.